Sì, via! Altra tripla di Team Hardaway! Va bene che siamo nel 2021, ma ragazzi, qua si esagera. Buongiorno a tutti ragazzi, sono il Franz, siete su NBA Revival Zone, reaction di oggi, Dallas Mavs contro Miami Heat, partita importantissima sia per Miami che per Dallas, quindi speriamo sia una bella partita. Si parte! Ci siamo, signori, inizia la partita, palla due tra Willie Collistein e Bama De Baio, partita veramente importante sia per Miami che per Dallas, perché da un lato Miami ha appena agganciato il sesto posto ai danni dei Boston Celtics e deve dare continuità per riuscire a distanziare i verdi di Brad Stevens, dall'altra parte i Dallas Mavs che sono appena stati risorpassati dai Los Angeles Lakers vittoriosi contro i Denver Nuggets, e devono vincere per salire ulteriormente per sperare di evitare la roulette russa dei play-in e magari agganciare il quinto posto che vorrebbe dire al momento accoppiamento con i Clippers, tra l'altro, quindi non so quanto convenga, sicuramente, diciamo, sarebbe la rivincita dello scorso anno, quando i Clippers hanno eliminato i Dallas Mavs dai play-off, nonostante le prestazioni mostruose di Luka Doncic. Comunque comincia la partita, tripla intanto di Tim Hardaway Jr., che sta giocando una stagione strepitosa, sarà che è l'ultima stagione del suo ricco contratto e probabilmente deve guadagnarsi la pagnotta. Poster di Adebayo nei confronti di Willie Colistein, parte forte Miami che si porta subito sul 20 a 14, qua ancora gran palla di Powell per Finney Smith. Powell che ha riguadagnato qualche minuto nelle gerarchie di Rick Carlyle, era uscito un po' dalla rotazione, ma visto che Porzingis praticamente salta una partita sia l'altra pure, è giusto che Dwight Powell torni a giocare il minutaggio che giocava prima di questa stagione sostanzialmente. Qua ancora Luka Doncic da 9 metri, ormai ragazzi le triple le prendono tranquillamente tutti da 9 metri, 8 metri e mezzo almeno, un metro dietro la linea dai tre punti. Qua Arisa arriva al ferro, direttamente da Sanremo al ferro dell'American Airlines Arena, o American Airlines Center, non ricordo mai qual è quella di Dallas e qual è quella di Miami. C'è in campo anche Nick Melly che qua distribuisce subito un assist importante, dall'altra parte ancora Trevor Arisa con lo step back, manda al bar Luka Doncic. E qui tutti i limiti di Luka difensivi e un Trevor Arisa che nonostante i due anni di stop e le 4.000 squadre cambiate negli ultimi 10 minuti, arriva con la tripla. Miami veramente parte fortissimo, quasi 40 punti di Miami nel primo periodo, qui colpe insomma la difesa non difesa dei Dallas Mavs, una delle peggiori dell'NBA. Anche se quando è in campo Nick Melly in compagnia di Jalen Branson e magari Josh Richardson, diciamo sono tutti e tre giocatori difensivi e potrebbero far meglio di quello che in realtà fanno. In ogni caso 40 punti praticamente di Miami nel primo periodo, qua palla dentro, palla fuori, Finney Smith tripla, i Dallas Mavs si riportano a meno 4, ora con il canestro si riportano a meno 2. E torniamo ad avere una partita perché qua recuperano nuovamente il pallone Miami Heat che sono abbastanza in confusione, qua Luca serve con l'Istain da solo sotto il canestro. Parità a quota 44, qua gran palla di Mama De Baio per il taglio di Duncan Robinson. Duncan Robinson che al momento in NBA è uno dei migliori nel gioco off the ball, solitamente finalizzato a ricavarsi spazio per la tripla, a volte anche con tagli a canestro. Quindi insomma un giocatore che sta diventando sempre più importante e che sarà un free agent ambito sicuramente nella prossima free agency, è in scadenza. Per cui aspettiamoci che possa guadagnare bei soldini a partire dall'anno prossimo, non è detto che rimarrà a Miami. Chiaro che Miami secondo me vorrebbe rifirmarlo, anche perché dal momento che Tyler Irro è sostanzialmente un desaparecido, perché dopo che gli Heat si sono lamentati, o comunque si sono dimostrati preoccupati della vita extra basket di Tyler Irro, è ormai da più di qualche settimana che non lo si vede in campo, quindi o è andato a disintossicarsi oppure ha qualcosa che non va qua. Grande rimbalzo offensivo di Dwight Powell che come detto è tornato a giocare minuti importanti. Dallas Mavs che alla fine del secondo periodo ha recuperato la partita e con questa tripla di Luka Doncic va sul più 9. Miami Heat che si sono completamente fermati nel secondo quarto, qua tentano di ripartire forte con il canestro di Kendrick Nunn. Vediamo se avremo una partita oppure no, perché dopo un inizio fortissimo dei Miami Heat si sono veramente bloccati. Qua tripla, altra tripla di Tim Hardaway Jr. con Land One, quindi Tim Hardaway Jr. come detto grande stagione. Ma vediamo, ma vediamo, la palla da De Baio, ancora grande assist per il taglio di Duncan Robinson, che v'ho detto uno dei migliori senza palla. Ancora Luka Doncic, ancora Tim Hardaway, ancora da 3. Ancora altra tripla di Tim Hardaway. Credo la terza o la quarta, insomma. Altra tripla di Tim Hardaway. E ancora tripla di Tim Hardaway. Una macchina da guerra. Non ne sbaglia una. Cos'è? La quarta, quinta tripla. Manca ancora un quarto e mezzo. Partitina di Tim Hardaway. Partitina. Mentre Doncic. Dalla mattonella Doncic. Eccola infatti. Straletta. La mattonella del buzzer contro i Clippers. Sorride Luka Doncic anche perché qua. Altra tripla di Tim Hardaway Jr. che non ne sbaglia veramente mezza. Dallas Mavs che volano sul più 19. 91 a 72. Miami Heat che si sono completamente fermati. Mentre c'è in campo anche Dwayne Dedmon. Secondo me è veramente sottovalutatissima firma per i Miami Heat. che non avevano un lungo affidabile di riserva. Ed ora hanno un vice a Debaio di tutto rispetto. Mentre altra tripla di Finney Smith. Piovono piogge di triple nel canestro dei Miami Heat. Altro taglio canestro di Dragic servito meravigliosamente da Debaio. Ma mi sa che qua la partita è un po' sfuggita di mano. È tornato in campo anche Nick Mellie. Non abbiamo visto canestri di Nick. Vedremo poi magari il box score a fine partita. Mentre Dwight Powell arriva al ferro per il più 22. And one. Direi che ormai la partita è terminata. Come al solito lo dirò. Più 26. Come al solito lo dirò. E inizierà la rimonta delle rimonte dei Miami Heat. Qua ancora. Gioco perimetrale. Jalen Branson arriva al ferro. Palleggio arresto e tiro. Rimbalzo offensivo di Dwight Powell. Palla per Josh Richardson che infila un'altra tripla. Veramente pioggia di triple assurda per i Dallas Mavs. L'unico che tenta di rimanere apparentemente in partita è Bama Debaio. Ma diciamo che sul più 20 Dallas a 7 minuti e 40 dalla fine. La partita potrebbe essere più che finita. Qua ancora. Ma vabbè. E vabbè. Veramente. Team Hardaway Junior. La partita della vita. Sì via. Altra tripla di Team Hardaway. Va bene che siamo nel 2021. Ma ragazzi qua si esagera. Team Hardaway. Avrà segnato 7-8 triple. Si sono viste negli highlights. Magari non le hanno nemmeno mostrate tutte. Ma ne avrà segnata una decina immagino io. Record ogni epoca di triple per Team Hardaway. Qua i Dallas Mavs ormai sono in totale controllo. Direi che la partita è finita. Come si suol dire i buoi sono scappati. Anche se qua Dallas 119 a 99. Sempre sul più 20. 124 a 104. Il più 20 rimane. Direi che è finita qua. I Dallas Mavs mettono in cascina una vittoria importantissima. Perché risorpassano i Lakers nella lotta al quinto o sesto posto. Diciamo più che altro distanziano ulteriormente. Qua vabbè. Beneficiata totale. Anche la tripla circus shot di Jalen Branson. Dicevamo i Dallas Mavs riagganciano i Lakers. Li risorpassano. Finisce qui 127 a 113. Eric Spolstra se ne va. Partita alta allenante. Esattamente come la stagione dei Miami Heat. Vediamo il box score. 12 di Finismith. 36 con 10 su 18 dall'arco. Per uno strepitoso Tim Hardaway Jr. 23 e 12 con 8 assist di Luka Doncic. Ancora i box Porzingis. Che proprio gioca una partita sì e 3-4 no. 23 e 12 come detto di Doncic. 17 di Josh Richardson. 19 di Jalen Branson. Buona partita di Dwight Powell. Ma soprattutto 22 triple a referto per i Dallas Mavs. che tirano più del 50% dei loro tiri dalla lunga distanza partita sopra le righe. Come detto di Tim Hardaway. Dall'altra parte 18 di Arisa. 11-11 e 9 rimbalzi per Bama De Baio vicino alla tripla doppia. 14 di Nann con cattivissime percentuali. 19 di Duncan Robinson. Dalla panchina 19 di Draghi c'è 14 Gabe Vincent. Ma come detto a parte l'assenza di Jimmy Butler per cacarella o vomito o comunque flu. like symptoms, nausea diciamo. C'è un Nemanja Bielica che non gioca mai. C'è un Tyler Irro infortunato sulla carta. Ma insomma c'è da vedere quanto. Miami Heat che finiscono questa partita. Che diciamo questa partita è esattamente lo specchio della stagione di Miami Heat. Partiti forte e poi completamente bloccati. Stagione altalenante. Stagione brutta finora. Perdono una partita importantissima. Possono farsi agganciare nuovamente dai Boston Celtics. Comunque la lotta grazie anche a questa formula dei play-in. È serratissima sia a Est che a Ovest. Staremo a vedere. Mancano 7-8 partite. alla post-season. Ragazzi la reaction è finita. Mettete un like. Commentate. Iscrivetevi al canale. Consigliate il canale a tutti i conoscenti. Si vuole crescere. Noi ci vediamo in pausa a Franzo per il resto degli highlights. Buona giornata. Il Franz. Buona giornata.